Musica 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 Ciao ragazzi, siamo finalmente tornati in bici dopo tantissimo tantissimo tempo e oggi vi portiamo veramente in un posto super super tecnico. Allora, siamo partiti stamattina sul lago di Como a Lierna. Siamo arrivati a Varenna e poi saliti fino a qua all'Alpesino. Abbiamo fatto 25 chilometri e il dislivello, boh, cos'era? 1000, 1200... Qualcosa del genere. Ora ci prepariamo e cominciamo la discesa. Uuuuh, bel salto del sassolino. Alè! Croccante questo sentiero. Sfasciume tipico delle chese. E dopo mesi di fermo. E dopo mesi di fermo. Andare in bici così. E prendere quella rocetta no però. Tranquillo che qualsiasi cosa tu volessi fare non è riuscita perché in te bene. ... ... ... ... ... Trocè giusto. sa che ha scelto la variante quella oi e e e e e e e e la era un filino più insicuro e e Mamma mia Questo sentiero è massacrante Non ho capito come accendere la GoPro Questo è stato un passaggino dal 10 Loder Questo pezzo qui dalla GoPro sembra che sia in piano Sembra che ci siano giusto due sassolini così Ma è veramente veramente impegnativo Ma super soddisfacente Figa Portato a casa Mamma mia Ah va che bello Uno e dunque Girare su rocce è top Non si sporca la bici perlomeno Slippery Al posteriore Vaffanculo Passiamo di qua E' quello buono Uffu mamma mia si è arrivato troppo veloce Ed eccoci arrivati per una breve pausa Fino alla croce del Brentalone Unico punto panoramico della discesa A parte con il traversino Come avete visto prima E questo È una bomba Madonna che rischio Un'unico punto panoramico della discesa Un'unico punto panoramico della discesa Un'unico punto panoramico della discesa Grazie. Grazie. Grazie.